Ciao a tutti, io sono Arianna Giorgetti e sono la titolare della pagina Le creazioni vegane di Arianna. Sicuramente mi avrete visto su Facebook, se non l'avete ancora fatto io vi invito a guardare la mia pagina Facebook e ad iscrivervi qui al canale YouTube. Allora, oggi volevo parlarvi di un argomento molto interessante, ovvero l'estrattore. Tantissime persone mi chiedono che differenza c'è tra l'estrattore e il frullatore, ovviamente volevo farci un video sopra perché le differenze sono enormi. Sono due prodotti completamente diversi, io qui vi sto facendo vedere in questo momento un estrattore molto particolare, direi ottimo, veramente io ve lo consiglio. Questo è l'estrattore di Imitec, praticamente è molto particolare perché ha una velocità molto bassa di estrazione, parliamo di 48 giri, e un estrattore per essere professionale e per funzionare realmente deve stare sotto i 50 giri. Che cosa significa? Che se qui notate bene, vedete che vi sto facendo vedere con il cursore, l'estrattore è molto diverso dal frullatore perché all'interno voi potete inserire frutta, verdura e l'estrattore automaticamente dividerà la parte solida dalla parte liquida. Quindi avrete un contenuto di vitamine e minerali molto più alto con l'estrattore perché potrete assumere una quantità molto più vasta, quindi una quantità veramente grande di vitamine e minerali senza, e quindi di succo, di estratto, senza incorrere in effetti indesiderati, tipo dolori alla pancia, ok? Queste cose qua perché se voi assumete un frullato all'interno ci saranno le fibre della frutta che voi siete andati a frullare, mentre con l'estrattore, questo non succede perché l'estrattore separa la fibra da quello che è praticamente il succo e quindi non ci saranno problemi per il vostro apparato gastrointestinale, ok? Quindi non vi dovete preoccupare di questo, vi voglio far vedere una cosa molto importante, come funziona l'estrattore. Allora, se voi vedete questo qui, per esempio della Emitech che io vi consiglio assolutamente, vedete qui ci sono due boccali praticamente perché da una parte verrà estratto il succo e dall'altra le fibre, e questi sono praticamente, vedete, gli accessori interni, qui potete andare a mettere frutta e verdura, e eccolo qui, vedete? Questo è praticamente la macchina che sta all'interno, dove verrà filtrata la vostra frutta e la vostra verdura. Io vi consiglio questo estrattore perché ovviamente potrete beneficiare di tutti quanti gli effetti delle vitamine contenute all'interno della frutta e della verdura, trovo che sia un ottimo estrattore perché comunque sia a questa spremitura lenta, e poi all'interno ha anche un accessorio particolare per fare delle granite e dei sorbetti. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per il like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vi lascio il link dell'estrattore di cui vi ho parlato adesso qui sotto in descrizione, e vi ricordo che ho appena creato un corso rivoluzionario, l'Arianna Vegan Academy, dove vi spiego veramente di tutto sull'alimentazione vegetale. Quindi mi raccomando, continuate a seguirmi per altri video.